Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 31 gennaio ricordiamo San Giovanni Bosco. Ascoltiamo la sua storia. Giovanni Bosco nasce il 16 agosto del 1815 da Francesco e Margherita Occhiena, vicino a Castelnuovo d'Asti. La madre, dedita al lavoro e ai suoi doveri di cristiana, lo educò alla fede e alla pratica del messaggio evangelico. E la devozione di Giovanni per lei era così alta che trasmise il suo amore alla futura congregazione. A soli nove anni Giovanni ebbe il sogno che gli rivelò la sua missione, l'educazione della gioventù. Compì gli studi ecclesiastici e nel 1841 fu ordinato sacerdote. La grande opera di Don Bosco ebbe inizi difficili. Il santo intuì subito il grande disagio che stavano vivendo i giovani delle famiglie che dal mondo agricolo stavano passando al mondo preindustriale. E capì che l'oratorio poteva essere la risposta a questo disagio giovanile. Don Bosco intitolò il suo primo oratorio a San Francesco di Sal. Gli oratori erano un luogo di formazione cristiana, di ricreazione, di aggregazione. Istituì scuole professionali, volte a formare buoni cristiani ed onesti cittadini. Dopo quattro anni trasferì l'oratorio nella struttura di Valdocco, nella quale poteva radunare i suoi birichini. Qualche anno più tardi Don Bosco avviò l'oratorio di San Luigi presso la stazione ferroviaria di Porta Nuova. Nel 1852 l'arcivescovo Monsignor Luigi Franzoni lo nominò responsabile dell'opera degli oratori. Per Don Bosco l'amore era il primo principio pedagogico ed era necessario che il ragazzo percepisse di essere amato. Dotato di una intelligenza eccezionale, Don Bosco considera la stampa uno strumento fondamentale per la divulgazione culturale, pedagogica e cristiana. Perciò diviene scrittore ed editore. Nella biografia da lui scritta su San Domenico Savio evidenzia come il giovane aveva ben compreso la sua pedagogia. Noi qui alla scuola di Don Bosco facciamo consistere la santità nello stare molto allegri e nell'adempimento perfetto dei nostri doveri. Per realizzare quello che aveva nel suo cuore Don Bosco si fece aiutare. E per garantire una continuità e stabilità a ciò che aveva iniziato fondò a Torino la società di San Francesco di Sal, i Salesiani. Una congregazione composta di sacerdoti e qualche anno più tardi a Mornese con Santa Maria Domenica a Mazzarello fonda le Figlie di Maria Ausiliatrice. L'opinione pubblica nei riguardi di Don Bosco non era sempre favorevole. C'era chi apprezzava la sua opera e chi lo considerava avveduto. Papa Pio IX invece lo appoggiò costantemente, tanto che con la sua intercessione permise all'opera salesiana di espandersi. Don Giovanni Bosco morì a Torino il 31 gennaio del 1888, giorno in cui la Chiesa Latina ne celebra la memoria liturgica. La sua salma fu in un primo tempo sepolta nella chiesa dell'Istituto Salesiano di Val Salice, poi venne trasferita nella Basilica di Maria Ausiliatrice, fatta edificare da Don Bosco stesso. Il pontefice Pio XI lo beatificò il 2 giugno del 1929 e lo canonizzò il primo aprile del 1934, mentre mamma Margherita verrà dichiarata venerabile nel 2006. Nel 1988 Giovanni Paolo II, recatosi in visita ai luoghi di Don Bosco, lo dichiarò padre e maestro della gioventù, stabilendo che con tale titolo egli sia onorato e invocato, specialmente da quanti si riconoscono suoi figli spirituali. Da famiglia salesiana può contare ben 5 santi, 51 beati, 8 venerabili ed 88 servi di Dio. Questo santo a me fa pensare subito ai giovani e subito alla passione che serve per poter entusiasmare i giovani e per portarli alla bellezza della vita, perché i giovani sono sempre molto a rischio e per educare i giovani a volte bisogna anche correggerli. Vediamo che cosa ci dice proprio San Giovanni. Se vogliamo farci vedere amici del vero bene dai nostri allievi e obbligarli a fare il loro dovere, bisogna che voi non dimentichiate mai che rappresentate i genitori di questa cara gioventù, che fu sempre tenero oggetto delle mie occupazioni, dei miei studi, del mio ministero sacerdotale e della nostra congregazione salesiana. Se perciò sarete veri padri dei vostri allievi, bisogna che voi ne abbiate anche il cuore e non veniate mai alla repressione o punizione senza ragione e senza giustizia. Mai punire, mai reprimere se non c'è un vero motivo e soprattutto mai farlo in maniera ingiusta. È solo la maniera che vi si adatta per forza e per compiere un dovere. Quante volte, miei cari figliuoli, nella mia lunga carriera ho dovuto persadermi di questa grande verità. Ascoltiamo che dice, è certo più facile irritarsi che pazientare, è proprio vero, è molto più facile arrabbiarsi e nervosirsi piuttosto che rimanere lì pazienti. Minacciare un fanciullo che persuaderlo, è vero, è molto più semplice, o meglio ci hanno insegnato così, che sgridare e dare un ordine è molto più facile però che convincere qualcuno. Direi ancora che è più comodo alla nostra impazienza e alla nostra superbia castigare quelli che resistono che correggerli col sopportarli con fermezza e con benignità. La carità che vi raccomando è quella che adoperava San Paolo verso i fedeli di fresco convertiti alla religione del Signore e che sovente lo facevano piangere e supplicare quando e se li vedeva meno docili e corrispondenti al suo zelo. Difficilmente quando si castiga si conserva quella calma che è necessaria per allontanare ogni dubbio che si opera per far sentire la propria autorità o sfogare la propria passione. Ecco c'è un rischio nell'educare le persone, c'è un rischio molto grande che oggi abbiamo iniziato a scongiurare, che è quello di essere un po' più arrabbiati che amorevoli e questo veramente può fare grandi grandi danni soprattutto con i giovani di oggi che sono un po' allergici come lo siamo un po' tutti in realtà all'autorità e agli ordini. I giovani di oggi vogliono capire, vogliono essere guidati ma soprattutto vogliono vedere che una persona li vuole bene veramente, senza questo affetto non ci sarà mai nessuna educazione. Allora lo dico ai genitori, lo dico ai nonni, lo dico agli zii, a volte siete preoccupati che la direzione presa dai vostri nipoti o figli non è quella giusta. Ebbene, dovete intervenire sicuramente, il primo intervento è sempre quello della preghiera, però poi potete farvi avanti considerando tutti questi bellissimi insegnamenti di San Giovanni Bosco. Non dimenticate di pregare anche lui che con i giovani ci sapeva fare. San Giovanni Bosco prega per noi.